Buongiorno e benvenuti a Bari, anche oggi ci troviamo a CrossFit 195, io sono Mirko, trainer e owner di questo box, oggi è giovedì. Come workout abbiamo deciso di far divertire un attimino i nostri ragazzi con un workout basato su una canzone che si chiama Roxanne, e ogni volta che la canzone pronuncia il nome Roxanne, gli atleti faranno un barbis. La canzone inizia in maniera molto graduale, quindi il ritmo è molto basso, per poi terminare con un ritmo molto intenso e quindi aumenta il numero di barbis. Vi ricordo sempre che oltre a venire al box per allenarvi è fondamentale divertirsi, noi qui lo facciamo in maniera costante e i risultati sono molto positivi. Una volta terminato quindi questo breve spot con questa canzoncina qui, passiamo a un Tabata, in cui lavoreremo sempre sulla zona del core, con due movimenti, allo body e arch position. Il Tabata è una tipologia di allenamento composta in intervalli di tempo, ovvero ci sono 20 secondi di lavoro e 10 di recupero. Anche qui si va al ritmo di musica, è possibile trovare sopra i vari social, canzoncini con la scritta Tabata, in cui ascoltando la musica 3-2-1 go si parte, 3-2-1 rest si recupera e via dicendo. Quindi nei primi 20 secondi andremo a effettuare l'allo body, qui avremo 10 secondi di rest e i successivi 20 secondi di lavoro andremo a effettuare l'arch position, così per 8 round. Quindi una volta che abbiamo riscaldato tutto quanto il corpo, quindi andremo a fare un attimino di pratica sopra i Muscle Up, con le varie progressioni previste. Successivamente il lavoro di oggi, per rimanere sempre in tema fun, abbiamo previsto un Team WOD da due persone, composto così, sono 7 minuti AMRAP, 100 calorie per gli uomini, 80 per le donne, sopra il rower, dopo di che max effort di chest to bar, 3 minuti di rest. Dopo rincominciamo con 5 minuti AMRAP, le calorie sul vogatore diminuiscono, diventano 70 per gli uomini e 50 per le donne e avremo un max effort di thrusters, 3 minuti di rest ed infine il workout termina con gli ultimi 3 minuti AMRAP di 40 calorie per gli uomini, 25 per le donne sopra il rower ed infine max effort di Muscle Up Synchro. Buon divertimento!